Un momento terribile quello che sta vivendo Simone Bartolucci. In pochi secondi nell'alluvione di giovedì sera ha perso la sorella Noemi di 17 anni, mentre la mamma Brunella, 56 anni, è ancora dispersa. Inoltre non ha più neanche una casa. Dopo quanto accaduto però c'è tanta voglia di solidarietà e la comunità di Barbara si sta stringendo attorno a lui. I suoi datori di lavoro al Molino Mariani hanno deciso di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFanMe dopo averlo ospitato nei momenti immediatamente successivi alla tragedia. Simone l'abbiamo ospitato la prima sera quando la siamo andata a prendere all'ospedale dove era completamente scioccato e anche in opotermia. Adesso sta dalla sua ragazza ma Simone è e sarà sempre uno di famiglia. Sin da piccolo lavorava qua durante gli restati. A 23 anni era già responsabile di tutto questo impianto automatizzato perché era un ragazzo eccezionale, responsabile. Non dovevamo dire nulla, si organizzava tutto lui il lavoro. È incredibile quello che gli è successo. Lui viveva solo con la mamma e la sorella che sono stati portati via da questa tragedia. Il primo passo è aiutare a questo ragazzo con delle donazioni. Quindi donate, trovate tutto nella nostra pagina Instagram e Facebook, donate, donate, donate. Per aiutare Simone è sufficiente cliccare sull'apposito link della piattaforma GoFanMe oppure effettuare direttamente un bonifico a Liban in sovrimpressione. Simone è scampato miracolosamente all'alluvione e neanche i suoi amici riescono a capacitarsi di come si è riuscito a sopravvivere alla furia dell'acqua. Lui non era la sua ora perché è finito sott'acqua, è stato ritirato su dalla turbina dell'acqua, in quel momento è caduta una pianta con dell'edera quindi lui si è arrampicato, come mi ha detto lui, e la fortuna ha voluto che avesse il cellulare nelle tasche che funzionava. Quindi ha potuto chiamare i soccorsi, è stata l'unica fortuna nella tragedia, è incredibile. A proposito del Molino Mariani, l'alluvione ha messo in ginocchio l'intero stabilimento con i danni che superano il milione e mezzo di euro. Era un impianto completamente automatizzato, che avevamo avviato inizio 2019, stava completamente sommerso, quindi ai danni macchinari abbiamo tutti i danni, come potete vedere, delle farine confezionate, già pronte per i nostri clienti, perché noi sportiamo, ecco, lavoriamo tantissimo in Italia con i grandi artigiani, ma lavoriamo anche in tutto il mondo. La priorità però al momento è un'altra. Mi raccomando, donate per Simone, l'unico pensiero è lui adesso, queste cose fisiche si possono rimediare, ma quello che ha subito lui è indescrivibile. Grazie. Grazie.